I Negramaro tornano col botto, fino all'imbrunire il loro nuovo singolo, primo inedito del nuovo album che uscirà il 17 novembre per Sugar, e volato direttamente in testa alla classifica dei brani più venduti su iTunes. Una canzone che sembra un viaggio elettro-rock dal ritmo travolgente che sprigiona energia pura. Nelle parole piene di speranza e dolcezza anche un featuring inedito e familiare della piccola Maria Sole San Giorgi, nipote di Giuliano. È una canzone sulla speranza assoluta, vista e cantata con più consapevolezza, ha spiegato Giuliano San Giorgi, intervistato al Tg1 da Vincenzo Mollica. Siamo certi che questa speranza ci darà buoni frutti. Abbiamo immaginato in qualche maniera uno scenario post-apocalittico, e davanti a questo scenario così nero, così grigio e così pieno di niente, abbiamo immaginato che dalle montagne potesse tornare tutta la bellezza nascosta. In realtà la bellezza è solo nascosta e tornerà con tutte le sue camicie fiammanti.